Il rumore della porta che sbatteva mi è rimasto in testa per anni. Continuavano ad arrivare medici, entravano e uscivano tutti quanti. A un certo punto è entrato un dottore, ha detto la mamma non ce l'ha fatta. Ma il bambino è salvo, ma solo qualche problema. Chi si è preso curando il suo figlio? Io non l'ho nemmeno voluto vedere. L'ho incontrato per la prima volta tre giorni fa. L'ho incontrato per la prima volta tre giorni fa. Ti ha telefonato lei per prima. Non ho saputo un dittino, ma tu sai che sto a piacere. L'ho incontrato per la prima volta tre giorni fa. L'ho incontrato per la prima volta tre giorni fa. Grazie per la visione!